Albino Butticchi, 56 anni, uomo d'affari, già presidente della squadra di calcio del Milan, figura molto popolare tra gli sportivi, apparso anche alla ribalta della cronaca per vicende personali, la notte del 15 febbraio 1983 si spara la tempia destra un colpo di pistola. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!